Ma è già su rettilineo signore e signori, chi non ha l'ombrello deve farle sentire l'applauso perché anche quest'anno è la dominatrice a Borgo Massugana della Coppa di Sera, Federica Venturelli Marta Pavesi, grande Marta Pavesi, arriva a 10 metri dalla vincitrice Attenzione, lanciato lo sprint per la terza posizione, si lancia a Bertolini, si lancia a Bertolini Beatrice Bertolini, terza piazza per la ragazza toscana, terza Beatrice Bertolini, quarta e Beatrice Rota, quinta e vittoria Rizzo, che spettacolo! Con la vincitrice Federica Venturelli-Ciclifiorina! E un miss, entra nella storia di Borgo Massugana Federica Venturelli è ancora tu qui, padrona Borgo Massugana, la Coppa di Sera è ancora tua? Sì, comunque dopo tutti i successi di questa stagione non pretendevo la vittoria, però ci ho provato e sono riuscita ad arrivare triunfalmente Ancora in maglia tricolore, ancora su questo traguardo, se non fosse per il maltempo e per la presenza di Marta Pavesi alle tue spalle sembrerebbe un déjà vu, pensavi di vincerla così con un attacco in discesa o il coppio nella gara te lo aspettavi diverso? No, beh, non mi aspettavo nulla perché non sapevo come si sarebbe svolta la gara, anche per la pioggia che ha reso tutto più difficile e ho cercato di non essere presa dal panico e attaccare sulla salita, sono stata calma e sono riuscita poi a trovare il momento giusto Quattordicesima vittoria, quindicesima vittoria, beh hai perso anche te il conto, a dire la verità La mia domanda è dove stai mettendo tutte le ste maglie? Tra tricolori ciclocross, tricolori strada, tricolori pista, ti manca forse solo la mountain bike? No, vabbè, mountain bike non è una specialità che faccio, però comunque tutte le altre soddisfazioni non sono solo maglie materiali ma anche qualcosa che mi porterò sempre dentro Ormai ti devi inventare anche le dediche perché non è facile ogni tanto, ogni volta dedicare una vittoria a qualcuno, a chi va questa Coppa di Sera? La dedica va agli organizzatori della Coppa di Sera e all'atleta danese che l'anno scorso è arrivata a seconda, che oggi era qui ma non ha corso